Nella sigla CBRNE la E indica gli esplosivi, le componenti energetiche atti in molti casi a disperdere su un'aria che dovrebbe essere la più vasta possibile le sostanze pericolose, chimiche, biologiche o radiologiche che siano che sono abbinate al congegno stesso. Un esempio classico può essere la bomba sporca in cui un esplosivo è legato insieme a del materiale radioattivo in modo da polverizzare un'esplosione e disperderlo su un'aria per contaminarla. Pensate ad esempio ai danni a lungo termine che si possono avere ad esempio contaminando una scala mobile di una stazione metropolitana molto affollata o di una piazza, una delle piazze principali ad esempio della vostra città. La scelta dell'esplosivo è importante per due motivi. Il primo è che effetti anche sulle sostanze che sono combinate all'esplosivo stesso e le altera specialmente il calore prodotto a effetti importanti sia sulle sostanze chimiche che su quelle biologiche. Quindi ad esempio si può portare per una componente energetica che non sia esplosiva e non sviluppi un eccessivo valore utilizzando un'energia ad esempio contenuta in una bombola sotto pressione. Il secondo motivo invece è l'effetto che vogliamo produrre. Per esempio nell'esplosione l'esplosione stessa in sé può essere molto più importante degli effetti che vogliamo produrre con le sostanze che abbiniamo all'esplosivo stesso. Infatti una bella esplosione ha un effetto psicologico molto importante e crea panico lasciando segni ben visibili che possono essere ad esempio fotografati dai fotografi, dai giornalisti e finire su ogni giornale o essere diffusi molto efficacemente su internet. Oppure crea dei feriti nell'immediato il che attrae soprattutto i soccuritori, i curiosi esponendoli a minacce invisibili ad esempio le sostanze pericolose che erano abbinate all'esplosivo. Il dato che trovo più interessante è che il 70% dell'uso di queste sostanze pericolose infatti è abbinato appunto ad esplosivi. E questo ci porta immediatamente a due considerazioni, a due conclusioni che sono semplici e logiche. La prima è che tutte le vittime di un evento in cui c'è stata un'esplosione vanno considerate contaminate ed è prevista alle decontaminazioni finché non si esclude il rischio appunto di queste sostanze pericolose che sono spesso invisibili. Questa è una cosa che è molto logica e che ormai viene insegnata da diversi anni sempre più frequentemente in ogni ambito. La seconda è invece perché vedo ancora correre i soccuritori verso i feriti come se fossero all'apertura delle porte nella giornata dei saldi. Ma lavorare in modo professionale e alla vostra vita ci tenete? C'è il rischio di una bomba sporca e la presenza di sostanze pericolose ricordate il 70% ma gli scenari esteri ci insegnano che la bomba sporca spesso è solamente un'esca per colpire i soccuritori. C'è il pericolo sempre più diffuso di una seconda bomba messa lì apposta appositamente per voi. Ma ci possono essere anche persone armate che vi aspettano. Nella strage del Sinei ricordate una bomba era stata messa in una moschea e è dato l'inizio veramente ad una carneficina e fuori dalla moschea c'erano persone armate che aspettavano i fedeli in fuga e i soccuritori e le ambulanze che sono arrivate a dare soccorso a queste persone e questi terroristi hanno iniziato a sparare però su queste persone in fuga e sulle ambulanze in arrivo ma anche nell'attento del Bataclan hanno aspettato i soccorsi per prenderli di mira attirati appunto dalle esplosioni. L'esplosivo è quasi sempre una sostanza chimica ma viene classificata a parte viene dedicato un rischio specifico rischio esplosioni proprio appunto per evidenziare in modo specifico questo rischio. Fortunatamente le sostanze utilizzate per fare gli esplosivi non sono poi così tossiche non hanno effetti chimici primari ma di sostanze che possono dar luogo ad un'esplosione e ce ne sono veramente tante e questa categoria sebbene potrebbe rientrare nel chimico gli viene dedicata proprio per il rischio specifico una categoria a parte. L'esplosivo è una categoria un po' borderline che rientra anche in altre discipline ad esempio nel rischio nucleare in quanto una bomba atomica ha bisogno di una grossa esplosione per avviare la reazione nucleare ma non serve essere così sofisticati buoni esplosivi si possono fare anche comodamente a casa con quello che troviamo bastano veramente base di chimica molto basilari non serve essere chissà quali persone veramente formate e distruite o andarsi a cercare materiale e informazioni su internet come molti pensano così come per il detonatore e gli elettrici ormai si trovano facilmente ovunque ma ormai qualunque ragazzino oggi sa come mettere due batterie nel telecomando. Un'ultima considerazione è la forma che l'ordigno può avere il famoso una bomber ma anche gli attentati in medio oriente ci hanno dimostrato che possono avere veramente qualunque forma dai tubetti di maionese agli oggetti di uso più comune ai motorini bomba passando per le scarpe e le mutande farcite letteralmente di esplosivo la cosa ancora più pericolosa è che usano distintamente uomini donne e bambini come bombe su uscita quindi quando si parla di rischi di esplosivi sia per la facilità di uso di produzione sia per la difficoltà nella detection al fine di mitigare questo rischio dobbiamo lavorare principalmente su tre fattori un'ottima capacità di intelligence ottimi strumenti di detection che devono essere presenti personale veramente ben addestrato in tutti quei settori dove è probabile un attentato ad esempio nei marchi di eccesso di aeroporti estati nelle piazze durante le feste i grandi eventi e nei concerti infine nelle metropolitane dobbiamo iniziare a entrare nell'ottica che serve un grosso investimento economico in formazione e professionalizzazione di tutto quel personale che è messo in prima linea come personale di sicurezza ad esempio gli steward i buttafuori i volontari il personale sanitario proprio quel personale su cui oggi si va assurdamente a tagliare cercando di assumere quello che costa meno non il più qualificato del personale che oggi di fatto viene utilizzato alla stregua dei canali di rita miniera ciao